Anfaccio a tutti ragazzi, qui Canelubo e oggi siamo qui per fare... Aspetta mazza i capelli perchè... Purtroppo non ho potuto registrare LOL ragazzi, i server sono andati off come sapete tutti Io non sono consono a registrare magari, non so, 4 giorni prima, 3 giorni prima per i video pronti Io registro il giorno prima, a meno che non ho qualche impegno che registro 2 giorni prima Però all'incirca sempre là, dopo la data di uscire del mio video vuol dire che sono quasi appena fatti E quindi non ho potuto registrare LOL ragazzi e per questo vi sto mettendo questo vlog Oltre al fact time, perchè comunque 2 video erano, 2 video vi ho promesso, 2 video voglio mettere Anche se questo vlog, per spiegarvi un attimino meglio che sta succedendo con gli RNT E con i canali che si sono creati dell'RNT Allora, vi spiego innanzitutto Io ho anche un secondo canale, ve lo dico subito, lo trovate sotto in descrizione Secondo canale Canelubo, ci cliccate, ci faccio parodie e gameplay, let's play, tra poco comincerò E poi c'è il canale di Manux, un membro dell'RNT Vi lascio anche il suo in descrizione, RNT Manux, vi lascio il suo canale in descrizione ragazzi Ed anche il canale dell'RNT Community ragazzi, l'avrò detto 40.000 volte, vi lascio anche quello in descrizione Quel canale dell'RNT Community è un canale sì in cui noi mettiamo un rank al team Quindi propenso al 50% del team, mentre l'altro 50% ragazzi va per voi Perché abbiamo preso la partner su quel canale, ma tutto il ricavato dei soldi di quel canale Verrà riflessato su di voi, ovvero abbiamo pensato di organizzare tornei O comunque di fare di favore contest con i soldi che ci venivano dato dalla partner Quindi era tutto a favore vostro e avevamo proprio deciso di creare questa community Diciamo di persone serie Perché più che altro i community roll sono amministrate da bambini E dentro ci sono ovviamente bambini Perché se sono amministrati da bambini, dentro ci sono per forza bambini Ora non voglio fare nessun esempio, non voglio andare contro nessuno Però sapete di chi sto parlando E se non lo sapete Voi andate a cercare da soli Ragazzi, il vlog di oggi finisce qua Ve l'ho detto, era solo un attimo di chiarimento per tutte quelle cose che mi vengono chieste Anfascia a tutti ragazzi Buona giornata E speriamo che i server non laggino Da Canelupo